Ma ancora ho sta storia? Sì, allora, innanzitutto sì, il titolo a dire la verità è stata un'idea di Matteo, va a dirla tutta, e nasce sicuramente dall'idea di raccontare da una parte un ricominciario, e io devo dire sono un po' legata al ciclo, come ho sofferto molti, un po' al ciclo scolastico, nel senso che per me l'inizio dell'anno è a settembre, non è a gennaio, è a settembre che dici adesso, adesso, e quindi quello unito al fatto che il film era ambientato a settembre, era un giorno pianeta a settembre, e ci è cresciuto subito. Poi dopo ci siamo resi conto che esisteva anche questo film di Woody Allen, che devo dire conoscevo tutti gli altri che danno questo. La storia nasce da una serie di storie che mi è capitato nel tempo di sentire. La storia dei ragazzi nasce da dei racconti che faceva la sorellina di una mia amica, che ci raccontava cosa succedeva a scuola, nei bagni, e con questa mia amica eravamo un po' sconvolte. E poi però, pensando, ci ho detto, guarda un po', perché tutta questa grandissima attenzione, e anche facile accesso dei ragazzi a certi temi, e poi invece tutto che di fondo c'è sempre l'emozione, dei sentimenti di imbarazzo, e quelli sono universali, sono gli stessi. Per esempio provavo io alla loro età, e quindi mi piaceva proprio raccontare l'attenito contemporaneo tra una grandissima prancità e come si occupano della posizione, e poi invece i sentimenti universali che sono sempre quelli in cui spero tutti possano aver riconosciuto i loro adolescenti del passato. So serious, serious, why are we so serious? Oh! Ciao! Ciao!